Ciao ragazzi ed eccoci qua sulle novità di aprile sull'applicazione NES su Nintendo Switch Online e ragazzi prima di iniziare come vedete ho la icona pronta per giocare sul Super Mario Bros 3 ormai però abbiamo completato tutta la serie quindi me lo posso pure scordarmelo questo gioco comunque tutta la serie la potete trovare di Super Mario Bros 3 sul canale perché qua in alto a destra vi ho lasciato la scheda di tutta la playlist detto ciò ragazzi direi di andare a scoprire quindi le novità di aprile oh eccole sono ben quattro novità queste qua sopra vediamo quindi la prima abbiamo Kid Icarus Special insomma non lo proveremo poi abbiamo Punch Out oh che figo il gioco dei Pugili che figo dai ci sta poi abbiamo Star Soldier non so come si dice ragazzi ma l'inglese è quello che è e poi l'ultima novità di aprile è Super Mario Bros i livelli persi cosa? io sono veramente curioso di provare subito Super Mario Bros i livelli persi ma cosa ragazzi andiamo un attimo a scoprire cosa è ah è Super Mario Bros 2 ma no ragazzi no 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 non so se fare la serie ragazzi alla fine di Super Mario Bros 2 quindi non lo so non lo so ragazzi se la porto forse quest'estate portarsi quest'estate ragazzi ve la porto questa serie detto ciò ragazzi lasciamo perdere un attimino Super Mario Bros perché questi sono i livelli persi forse sono dei livelli extra di riferimento a questo Super Mario Bros 2 quindi lo lasciamo perdere oggi proveremo ben due giochi due giochi principali Star Soldier e Punch Out poi ragazzi proveremo un gioco che non abbiamo provato insomma questi giorni che ci manca ragazzi? tennis? portarsi tennis quindi proveremo anche tennis ragazzi dai oggi facciamo così allora quindi direi di iniziare con Star Soldier logicamente non faremo tutto il gioco ma che è un gioco di soldati che tocca fa qua? ah so quei giochi che devi sparare ah belli ragazzi a me sono veramente sempre piaciuti questi giochi devi sparare a questi cosi io però ero abituato ero abituato praticamente a ricevere dei potenziamenti invece qua non li da tirky mod on veramente allora qui che tocca fa? oddio pensavo che dovevo seguire un percorso ragazzi mi confondo ma che so ste strutture so comunque sta navicella che deve sparare sti robbi forse quello è un potenziamento si? no cazzo mi hanno fottuto niente so ricominciare ora a capo ricomincio ora a capo non mi dite si ricomincio ora a capo ma da ma che cazzarola e pensavo che avevo preso un potenziamento un potenziamento e si ricomincia bene ma non è possibile non è possibile ma che so maiali che volano? questi non ho capito che sono pure questi non riesco a ben vederli ma che so questi e vabbè e vabbè e vabbè game over e allora vaffanculo vaffanculo dai ma c'è un checkpoint qui? voglio rifarlo c'è un checkpoint? per favore voglio un checkpoint c'è? o non c'è? maiali che volano guardateli io poi oddio questi io veramente devo stare un attimino un po' distante guardate qua ma dove cazzo sono uscito fuori da porca raga ma ma che cazzo allora del gioco è questo? fare slalom e sparare? può darsi questo è l'obiettivo del gioco? oddio ma che so questi no 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 se perdiamo basta eh lo dico subito e boni voi e vaffanculo eh allora qui che è? che so ste robe? poni 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 via 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 oh 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 che cazzo vogliono? e vaffanculo e no e e no basta mi ha rotto sto gioco basta 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 assolutamente basta oh adesso andiamo a fare un po' di rochi va andiamo su punch out vediamo un po' di che si tratta oh ok quindi facciamo new del 1990 ragazzi che roba eeeh vabbè round round uno vai direttamente iniziamo chi sono io? ma quell'albero io l'ho capito perché nintendo in qualche gioco veramente fa assomigliare i personaggi in maniera assurda quell'albitro mi sembrava Mario che tocca fa qui? ma io chi sono? ma io chi sono ragazzi? ah sono questo qua quei calzoncini verdi ragazzi questa t-shirt nera mi sembra non lo so ragazzi ma sarò io questo? si 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 sono io ragazzi sono salofeno e mi ha lanciato un gancio incredibile vai vai bello mio vai vai ah no ok così si schiva aia aia ma perché è diventato rosa? aia diventato rosa ragazzi non ho capito il perché riprenditi forse sarà stanco furarsi ah così gli sta schivando questo e dai cazzo mi ha mandato a K.O no 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 svegliate 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 ok 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 aspetta attento eccomi cazzo si scriva aia oh riesce sempre a mettere i colpi a segno che cazzo e mori quindi che è successo? che è successo? ah ok mo mi sta parlando vabbè sono i soliti coach e te parlano vabbè andiamo avanti round 2 vediamo un po' chi vincerà dai forza tocca vincere noi fight vai lottiamo oh riesce sempre a parare questo mi è veramente nervoso aia che botta che botta svegliate 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 ok aia oh che cazzo mi colpisce sempre la faccia non ho capito il perché sto biondo non devo arrivare a 10 quel timer schifoso e adesso te faccio nero oh riesce sempre a schivare questo e baffanculo oh e baffanculo ma non è possibile no ma mi ha mandato a ko bastardo ma che bastardo ragazzi ma a parte questi giochi no col cavolo che ti dicono come funzionano i comandi adesso i giochi di oggi ragazzi sono tutti semplificati perché vai su impostazioni tu vedi i comandi qui invece proprio non vedi un cazzo non vedi niente ti devi arrangiare insomma vabbè si ricomincia ma io non ho capito il perché lui mi fa nero sono già nero per carità però mi fa rosso in qualche modo mi fa rosa ecco e io non riesco a fare nemmeno un baffo cioè l'ho buttato giù soltanto una volta dopo quella volta non gli ho fatto più niente o lui para tutto e allora fa il portiere caro mio però gli sto infliggendo il danno sto vedendo dalla barra eh e taglia un pugno sulla faccia ecco con x si danno i pugni sulla faccia mamma mia bel pugno sulla faccia oh strano che non attacca ahia eccolo là citte eh guardate come cazzo attacca adesso mi ha fatto stancare bastardo ecco che cos'era il suo trucco di merda ma così paro che figo paro ahia che botta no 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 e vaffanculo e vaffanculo eh dai svegliate svegliate e dagli un pugno sulla faccia sulla faccia sulla faccia ecco bravo oh io non ci arrivo mai a dagli un pugno lì che succede ah è finito ma dai Niente, niente ragazzi Non si può fare Ma buttata K.O.S. a 1-0 per lui Praticamente non riesco Ma perché? Ma perché? Cazzarola Immaginate il boss finale di questo gioco Che cos'è? È impossibile Cazzo Allora Vai, vai, vai Con i montanti diretti Quello e quell'altro Il gancio e quello Vabbè Mamma mia, bello Boom, boom Quando lui attacca mi paro E attacco io Oh, devo fare così ragazzi Ho capito adesso come si gioca 1, 2, 3, 4 No Deve arrivare a 10 ragazzi Se non sbaglio, no? Per essere a K.O. questo No, perché non mi ha sparato? Dai, riposate E dai, eh Io non ho capito perché Solo io divento rosa Perché divento rosa? Mi sa da certi pugni Vabbè Mi ha mandato Al tappeto Dai, rialzate Boom, boom, boom Gli ho tolto tanto Devo dire la verità Però Deve morì questo Deve morì Ma perché Si è stanca Sto personaggio Oh, cosa ho fatto Raga Ah Dolore Mi è finito il tempo Niente Ancora No, vabbè Io non ho capito un po' Come si gioca Ma via ragazzi Io direi di fare Tanto l'ultimo match Come va, va O io sto facendo di tutto e di più Soltanto lui riesce a schivare Riesce ad attaccare continuamente Che posso fare io? Niente Perché se divento tutto rosa Eh Non riesco a fare nulla Io quell'albito Veramente Mi assomiglia troppo a Mario Non so perché ragazzi Mi assomiglia troppo a Mario Belli pugni Vai, vai, vai 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 No, 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 no Non colpirmi E dai E colpisci Aia Ma perché Lui mi toglie un botto Io non ho capito perché Non ho E vaffanculo allora E vaffanculo Svegliate 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 Vai, vai, vai Ma perché non riesco A infliggere Nessun danno a questo Mo Ma perché E vabbè Oh lui Con quattro botte Mi fa sotto Lui con quattro botte Mi fa sotto Ragazzi E svegliate Ok E dai E vabbè E moriamo Vaffanculo Dai Eccolo là KO Perfetto Bravo stronzo Tante forti ragazzi Questo Eppure più grande di me Vabbè Comunque No, no, no Direi di finire così Andiamo a provare Quindi L'ultimo gioco di oggi Che è Fuori dal Gioco della settimana Dal mese di oggi Che è tennis Oh Che facciamo Single games Oppure double games Uno Due Mi fa scegliere Ok Con select Devo fare Allora Andiamo sul double games Va Select Il livello Due Dai Liscio Bello Ecco un altro tiro Vai Facciamo un altro liscio Figata Ma quello No Vabbè Stiamo zitti Stiamo zitti Ah Può rarsi in due Ma questo è un CPU Oppure Serve un joycon Ma vaffanculo Serve un joycon Serve un joycon Ragazzi Ecco perché Non mi funzionava Dai Allora facciamo Singolo Dai Facciamo singolo Va Facciamo singolo Rifacciamo tutto Da capo Via Select Due Perfetto Oh Adesso si può giocare Per Dai Ma vaffanculo Già iniziamo con fuori Dai E tira Non ho capito Perché non ha tirato Vabbè Eh va Buonanotte 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 I peggiori lisci Veramente Della storia Del tennis Sto facendo Fuori Perfetto Lancia E tira La liscia La liscia Ma perché la lisci Tira Oh Una bella Eh però fuori Ma mi stai prendendo In giro Cioè io Sto facendo Le peggiori Cannonate Un'altra volta fuori Ma non ha toccato Per terra Allora Vaffanculo Eh Senti Eh Ma io Ho giocato Non ho capito Perché non funziona Ho giocato Lì Ha toccato per terra Non è fuori Perché è double fuori Perché Perché se tocca per terra Ragazzi Se tocca per terra Quello deve rispondere Se non risponde È punto mio Perché ha toccato Ha toccato Il terreno di gioco Cazzo Eh Ecco fuori Comincia a fare fuori Per te Caro mio Nemmeno L'avversario È un livello Difficile Messo a livello Due Quindi Non può essere Un livello Tanto difficile Perché Out Ma era sulla linea Era sulla linea Era sulla linea No L'ho presa male Mannaggia me Ma era sulla linea Comunque prima Ragazzi Ma non c'è discussione Ma perché E vabbè E vabbè Insomma Sta vincendo lui Lui o lei Out Ma perché Perché Forse non so Giocare al tennis Cosa sbaglio Non lo so Ragazzi Non lo so Questo non sbaglia mai Punto mio Oh I miei primi punti Ragazzi I nostri primi punti Cazzo Ce l'abbiamo fatta Incredibile Ma vero Vai Vai Non puoi schiacciare Eh vaffanculo Ci ha schiacciato in faccia Veramente Batti Eh La lisci Perché la lisci Perché Ma perché la lisci Vai Oh Bello Bello Ma Punto nostro No Out Io però La vedo Sempre che tocca la linea Ma perché Forse è un po' la grafica Eh ma dai Ma arriva Però Nel corpo Sta palla Mi dovevo spostare ragazzi Fuori Fuori Ma perché fuori Fuori Ma perché Perché No 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 Eh vaffanculo Bene E anche I tre punti Vanno a lui Terzo set A lui Perfetto ragazzi Stiamo vincendo In una maniera assurda Stiamo vincendo Incredibile Vero Fuori Punto mio No Punto suo Non ho capito Perché lui Non fa mai Fuori Ma dentro In In Eh io mi devo sempre Arrangiare Ragazzi Oh Fuori È mio Perché Ah non viene Calcolato Non mi dà Tipo il punto A me Ma perché Ragazzi Mi devo ripassare Le regole Del tennis Potarsi Io giocavo Al tennis Ragazzi Quello Quello Dello snes Ragazzi Una roba assurda La grafica Era È migliore Per carità Però Si capiva subito Come si gioca Qua Non si capisce Niente Non si vede Bene La grafica Non sai Se è fuori Addentro Mamma mia Potevamo risparmiare Questo gioco Del tennis Se era fatto Così Mamma mia Oh Io riesco a fare I punti Soltanto In battuta Vabbè E la liscia Non so perché La liscia Ma È capace A lisciare Pure Le palle Il mio personaggio Oh Che bella battuta Sono andato pure Verso in avanti Ma Se me fa punto Ragazzi Se me fa punto E che cazzarola Eh Che posso fa Niente Oh Ma io non riesco A praticamente Ribattere Con il pulsante B Io Proprio Non lo so Solo con A Riesco a prendere Il pallone Oh Vedete E 30 punti A noi Vai E la liscio E la liscio Complimenti a me E te che ce la Eh vabbè Ho capito Ho capito Ho capito Ora penso se Fa l'ultimo punto Questo Avrà vinto Invece no C'è Lo spareggio Quindi devo fare Tipo Altri due punti Per aggiudicarmi Questo set Almeno voglio vincere Un set Posso? O non posso? Bello Ma perché premo B? Io premo solo A Devo premere solo A Ho premuto B adesso E mi ha lisciato Mamma mia Poi dici che non ti incazzi Premiamo solo A Non facciamo casino con B Ok No l'ho presa male Niente ha vinto lui Basta 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 Assolutamente Basta Ragazzi E quindi va bene così Ragazzi Quindi Finiamo Quindi i giochi di Di questo mese Sono principalmente Questi quattro Abbiamo provato Solo questi due Perché Icarus In giochi speciali Io non Li ripeto Perché l'abbiamo provati Nel precedente Video Sulle novità Di marzo Quindi Kid Icarus Lo potete trovare Sulle novità Di marzo Detto ciò ragazzi Va bene così Spero che vi sia piaciuto Questo video E quindi Può finire Così E poi ragazzi Questo video Sulle novità Di aprire Sull'applicazione Nintendo Switch Online Cioè sul simulatore Sull'emulatore Di NES Può finire così Spero che vi sia piaciuto E ragazzi Abbiamo provato Quindi principalmente Due giochi Di Aprile Gli altri due giochi Sono Chi dica Russi Che l'abbiamo provato E poi Super Mario I livelli persi Si riferisce A Super Mario Bros 2 Quindi Lo dovremmo fare Questa serie Penso In Estate Quindi La faremo Proprio Sicuramente Al 100% Detto ciò Ragazzi Chi non è scritto Iscrivetevi subito Mi raccomando I social Sono qua sotto In descrizione Andatemi A seguire Anche lì Instagram Lollo0 Radebeste E telegram Chiacciano Lollo0 Radebeste Ragazzi Io vi saluto Vi ringrazio Per aver visto Questo video E Ciao 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 Grazie a tutti.